Allora intanto volevo chiedervi come avete costruito la voce dei vostri personaggi e se ci sono state delle ispirazioni magari legate anche a delle visioni particolari o al vostro vissuto? Allora, il lavoro è stato quello di cercare di essere fedele alla proposta di Lupita Nyong'o dell'attrice che ha dato la voce al film nella versione originale quindi queste note molto alte che poi scendevano in delle note più profonde, in una voce più profonda la sfida per me, oltre a trovare una libertà artistica rispettando comunque la sua proposta è stata quella nelle note alte di riuscire a mantenere una rotondità e a cercare di dare una monotonia che fosse al servizio ma che non fosse noiosa e quindi l'attenzione con Carlo era su quello, con Carlo Cosolo, il direttore del doppiaggio Beh, si è lavorato innanzitutto su una traccia preesistente che è quella, come diceva Esther, degli attori, delle star che hanno dato voce ai personaggi in questo caso Pedro Pascal quello che si è cercato di fare in maniera molto specifica è di traslare quella che è una lingua anglofona, anglosassone, inglese che ha una sonorità musicale fatta in un certo modo molto specifico e attraverso la traduzione, attraverso anche il lavoro fatto insieme di trovare la sintesi migliore per rendere i personaggi credibili e molto aderenti poi alle intenzioni che poi è lo scopo finale quindi è stato un lavoro veicolare in qualche modo E in tal senso cosa mi hanno lasciato Rose e Fink? A me tanta tenerezza Un senso di, non lo so, di grande tenerezza perché trovo che veramente il rapporto di amicizia tra loro sia forse quello più dolce perché ci sono dei non detti Fink mi ha fatto veramente stringere il cuore nel suo bisogno di sentirsi visto e apprezzato da Rose che ha un'attenzione completamente spostata altrove e quindi è forse il rapporto un po' più struggente per me del film Mi ha lasciato un'idea di speranza, no? L'idea che anche attraverso appunto un film, un film animato possa in qualche modo insegnarci qualcosa su come cambiare questa modalità di rapporti che tra noi umani non sta andando particolarmente bene nel punto evolutivo dove siamo quindi che magari una volpe o un robot ci diano un consiglio su come riaprire le relazioni Ecco, grazie Grazie a te A te